salve amici e amiche questa notte non riuscendo a dormire a causa del caldo sono incappato nell'ultimo video di costantin in cui ha riportato alcuni interventi dei ministri russi nella televisione russa a proposito di un problema demografico di proporzioni bibliche che sta colpendo la russia le ragioni di questo calo continuo della popolazione sono abbastanza facili da intuire con la fuga dal paese di oltre 2 milioni di persone negli ultimi due anni la crisi economica devastante che sta colpendo il paese le centinaia di migliaia di soldati che hanno perso la vita nel conflitto è chiaro che il problema demografico non è dovuto solo al cosiddetto tenore di vita come diremmo noi in occidente con la popolazione europea che sta invecchiando ma per un insieme di fattori molto più critici e determinanti che ho appena menzionato ma ovviamente questi fattori sono tenuti nascosti dal governo e dalla televisione russa con dichiarazioni surreali come quelle di putin che per esempio annuncia un aumento del pil del 5,1 per cento in tre mesi per un valore che non si è mai visto nella storia delle nazioni umane cioè neanche nei momenti più rosei del boom economico del dopoguerra ma il presidente russo non è il solo a mentire spuduratamente alla popolazione è anche supportato da una compagine di folli che non smettono mai di sorprendere tutti quanti con queste dichiarazioni televisive proprio per arginare il problema del crollo demografico il parlamento russo ha chiesto l'introduzione delle lezioni di castità nelle scuole secondo il senatore nikolai bularev le ragazze devono essere le custodi della terra ed essere obbedienti ai propri mariti il più possibile e ai ragazzi deve essere insegnato essere i difensori della madre patria delle famiglie e delle loro mogli è curioso notare che questo senatore così brillante e dei grandi valori no di cui propone ci riporta alle stesse identiche idee di due regimi che negli anni venti del ventesimo secolo dicevano esattamente le stesse cose no è stato fra l'altro lui un attore e si è sposato tre volte nella sua vita voglio dire quindi non c'è niente di male a sposarsi tre volte ma non insegnare agli altri la castità se fai come l'ape che vola da un fiore all'altro poi un altro politico ha proposto una soluzione al problema demografico il vice ministro della giustizia vukolov che alla conferenza sulla famiglia sempre al famoso forum legale di san pietroburgo ha detto cito testuali parole ora stiamo lavorando alle leggi per prevenire la diffusione dell'ideologia senza figli che impedisce nuove nascite e scoraggia le donne soprattutto le più giovani dall'avere figli suggerendo che è meglio cavarsela senza figli e ci sono molte di queste ideologie estremiste oggi queste leggi devono intervenire alla radice della questione dobbiamo costruire un sistema che impedisca il diffondersi di tutte queste ideologie sul territorio russo e invece dobbiamo promuovere leggi come strumento per proteggere i nostri valori in sostanza il governo sta preparando delle leggi che vietano alle coppie di non avere figli chiaramente il problema è l'ideologia estremista dell'occidente giusto il problema quindi siamo noi nazisti europei che non vogliamo avere figli e influenziamo con le nostre idee la russia in qualche modo secondo lui perché le coppie in russia vogliono vivere all'occidentale quindi è nel lusso senza fare figli viaggiare farsi i selfie divertirsi no è questo il problema secondo lui e quindi quali saranno i provvedimenti del governo russo contro le coppie che non vogliono avere figli che dico forse magari non è che fanno decidono di non avere figli perché vogliono divertirsi ma magari tipo non hanno i soldi neanche per piangere che non potrebbero certamente sfamare un bambino ovviamente cosa farà il governo contro queste coppie distribuirà multe tasse che ne so la galera l'inseminazione è forzata quindi questi sono i politici russi e noi ci lamentiamo se ogni tanto dei bigotti al governo mettono sul dibattito il togliere il diritto di abortire alle donne ma ecco a proposito di aborti che è un tema correlato con il calo demografico in russia fra tutta questa messa in scena quotidiana e ridicola della televisione russa molto raramente qualcuno fa delle dichiarazioni che sono delle vere e proprie boccate d'aria fresca che suonano di verità quella di cui il popolo russo ora ha più bisogno che mai qualcuno che inizia a porre delle domande e sottolinea le responsabilità lascio a voi le deduzioni e le conclusioni di questo intervento che ho tradotto dall'inglese in quanto il traduttore automatico dal russo fa fatica a farlo quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti è un intervento del professor alexievich kundarov nato nel 1947 è un medico di lunga esperienza dell'ex unione sovietica prima e oggi in russia è un esperto epidemiologo studi statistici demografici e filosofici è un dottore in filosofia e scienze mediche e statistiche è capo ricercatore presso l'istituto della sanità nazionale e gestione sanitaria dell'accademia medica di mosca su youtube fra l'altro troverete diversi suoi interventi è una persona di riferimento e luminare nel suo campo ma soprattutto è un tipo che non ha peli sulla lingua e tende a essere molto diretto laureato nel 1971 fu uno dei pochi sovietici autorizzati a studiare all'estero nell'86 ha completato il programma dell'organizzazione mondiale degli studi sul cancro a berlino e poi gli studi epidemiologici e statistici presso l'università di londra insomma è uno dei migliori esperti di studi statistici medici russi viventi la sua autorità è indiscussa e questo è quello che ha detto recentemente pubblicamente e che possiamo collegare con il grave problema del crollo demografico del paese queste sono le sue parole il ratio di nascite è terribile terribile e nessuno si chiede o si prende il tempo per pensare ed esaminare la ragione per cui le donne non hanno bambini loro incolpano le donne di tutto putin dice che abbiamo il più basso indice di occupazione perché non c'è abbastanza popolazione senza neanche capire cosa sta dicendo allora incolpano le donne perché non vogliono avere figli perché gli standard di vita si sono alzati vogliono studiare fare carriera quindi rimandano l'avere figli fino ai 30 anni quando diventerà più difficile ma non è così se volessero e potessero i figli li farebbero inoltre negli ultimi tempi abbiamo accumulato così tanti argomenti importanti e gli aborti sono spariti riesci a immaginare il governo vuole prendere provvedimenti per imporre di fare figli alle donne e nel frattempo gli aborti sono spariti c'è qualcosa che non torna lo sai perché il governo vive nel suo mondo di vecchie regole ci propone la superstizione della chiesa e vuole combattere gli aborti ma non ci sono aborti nell'unione sovietica ci sono stati fino a 4,5 5 milioni di aborti ogni anno ora sono 300.000 chiedetevi il motivo se non nascono nuovi bambini perché allora gli aborti sono scomparsi non è un problema di contraccezione perché allora gli aborti sono scomparsi è pazzesco perché c'è un'epidemia di infertilità psicogena e disfunzione erettile e c'è qualcuno o qualcosa dietro tutto questo cos'altro potrebbe essere è come se le persone vivessero in uno zoo come gli animali che non riescono a procreare chiusi in uno zoo a causa della tristezza disperazione paura una paura dilagante dobbiamo sederci e pensare molto attentamente al prezzo che siamo disposti a pagare per il successo dell'operazione militare speciale il governo dice che il prezzo non è un problema come ai tempi della presa di stalingrado e paragonano la difesa di stalingrado alla conquista di kiev ma deve esserci un prezzo demografico oppure no perché il bilancio delle vittime viene nascosto perché viene nascosto loro sanno tutto perché ci viene nascosto ho visto alcune statistiche che le morti per suicidi in adolescenza nel 2022 sono aumentate del 40 50 per cento ecco perché gli aborti sono scomparsi i bambini non cadono dal cielo e se tutti coloro che dovrebbero avere figli finiscono nell'erba alta e nelle steppe vicino a kerson come vogliono risolvere il problema questo è stato uno stralcio di questo discorso di gondarov ma in rete ne ho trovati altri di cui vi passo il link se volete vederli sono in lingua originale per cui il traduttore automatico dal russo potrebbe fare qualche errore ma il senso di quello che dice è molto chiaro più volte è intervenuto per denunciare la situazione catastrofica che pende sul paese un mese fa in un'intervista online denunciava la crisi economica politica e sociale e internazionale della russia causata dal suo presidente kundarov sospetta lo ha fatto più volte in dichiarazioni pubbliche che putin sia gravemente malato di tumore o di una malattia infettiva che lo ha reso paranoico e lo costringe a vivere isolato evita il contatto con le persone e con i suoi stessi collaboratori mostra una cicatrice al collo che ha tutta l'impressione del risultato di una tracheotomia improvvisata e non dell'opera di un chirurgo che nel migliore dei casi significherebbe un cancro alla tiroide di queste speculazioni e diagnosi fra l'altro è facile trovare anche conferme su vari siti web e la stessa ansa fra le altre cose il medico crede che questa malattia stia pregiudicando la capacità di intendere e di volere del presidente russo che con il suo atteggiamento e le dichiarazioni spesso contraddittorie e le continue minacce di guerra nucleare al resto del mondo sta mettendo a rischio se stesso e tutta la nazione sottolinea che per obbligo costituzionale ha il dovere di informare il governo delle sue condizioni di salute che non c'è nessun meccanismo di controllo al governo per impedire che una persona malata al potere trascini la nazione verso una catastrofe se anche esistesse un presidente paranoico e malato la corte suprema dovrebbe intervenire ma non lo fa e poi elenca diversi casi politici del passato in russia che occuparono posizioni di potere pur avendo gravi malattie deficitarie non ultimo lo stesso yeltsin a cui fu diagnosticata la demenza alcolica e una malattia ischemica celebrale quindi il suo discorso è condivisibile e afferma quanto sia importante che ci sia un controllo medico indipendente per stabilire se una persona è fisicamente e soprattutto mentalmente in grado di governare un paese ora so che questo discorso può sembrare assurdo ma stiamo parlando di uno stato come la russia non è una democrazia occidentale dove ci sono garanti ed enti di controllo indipendenti per il bilanciamento delle istituzioni per quanto queste possono essere difettose ma in italia per esempio per questi motivi sarebbe impossibile che un giorno mattarella o giorgia meloni si svegli e dichiarino guerra agli stati uniti per esempio una seconda volta ma per fare un esempio molto spiccio se un cittadino qualsiasi vuole avere il porto d'armi in italia deve superare dei test psicoattitudinali e controlli medici quindi credo che sia giusto fare la stessa cosa per chi teoricamente può lanciare un attacco atomico su larga scala non credete per questo le preoccupazioni del medico russo sono ragionevoli i russi tradizionalmente non hanno mai pensato di minacciare il mondo con le atomiche per decenni durante la guerra fredda hanno interpretato il deterrente atomico come una sorta di difesa contro gli stati uniti perché temevano di essere invasi di nuovo per un principio culturale non diverso da quello dei francesi che hanno sviluppato il proprio arsenale atomico proprio per impedire di essere invasi di nuovo per questo motivo i continui discorsi di putin che minaccia l'impiego delle armi nucleari sono un segnale che qualcosa di profondamente sbagliato sta accadendo nella sua testa con tutti i pericoli annessi e connessi dopo le sue ultime denunce a proposito di una malattia del presidente russo alexievich gondarov è stato invitato dai medici presidenziali ad avere una conversazione privata purché sottoscrivesse un accordo segreto di non divulgazione a cui ovviamente si è rifiutato di firmare ha parlato di un atteggiamento completamente sbagliato dello staff presidenziale il medico non nutre nessuna fiducia nei medici che circondano putin che ha visto che sono sotto pressione e cito testualmente hanno paura di dire al re che perderà la testa quindi questo è quanto spero che come lui anche altri in russia si ribelleranno ed inizieranno a fare domande scomi scomode puntando il dito sulle responsabilità e più saranno queste persone più probabilità ci saranno di un cambiamento per tornare a constantine nel suo ultimo video l'ultima parte molto intima e toccante se volete vederlo spiega come decenni di propaganda televisiva hanno cambiato il modo di pensare del popolo russo che non avrebbe mai sostenuto una vergognosa e vigliacca guerra di invasione ad una nazione che sostanzialmente chiedeva soltanto di essere lasciata in pace e che oggi nei sondaggi si dichiarano addirittura favorevoli all'uso delle armi atomiche in ucraina ed è una pura follia cioè non si rendono conto che in un istante milioni di persone innocenti potrebbero morire quindi questi sono i tempi in cui viviamo e non so cosa dire onestamente mi spiace di questo video piuttosto triste quindi spero che la settimana prossima arrivi con qualche buona notizia ne abbiamo veramente bisogno o almeno di qualche segnale di cambiamento per quanto mi riguarda vi garantisco che nella settimana entrante la dedicherò a temi un poco più leggeri quindi restate sintonizzati e non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti come sempre un abbraccio alla prossima